La pioggia non ha fermato la passione al Monteruscello Calcio. I biancoverdi sono stati sotto osservazione degli scout del Bologna. È stato per noi un'occasione anche per fare il punto della situazione sui risultati sempre ottimi del Monteruscello. Scouting del Bologna Calcio, quindi chiaramente il Monteruscello Calcio in campagna è un punto di riferimento. Assolutamente, per noi è una società amica da un po' di tempo, siamo venuti già altre volte e ho avuto il piacere di venire io personalmente questa volta a visitare questa bella società con un bel centro sportivo. Peccato per il tempo di oggi che non ce l'aspettavamo, però è andata bene lo stesso. Possiamo dire un clima quasi che ricorda Casteldebole? Sì, là da noi c'è la neve e qua c'è la pioggia. Peccato però, insomma, con questa struttura siamo riusciti a giocare lo stesso, visto il campo insintetico. Una società alla vostra che è molto attenta al settore giovanile e allo scouting, non solo in Campania, ma in tutta Italia? Assolutamente, siamo in giro per vari raduni, in diverse società, in diverse parti d'Italia. Al sud si trova sempre della qualità, dei giocatori interessanti che speriamo possano entrare a far parte della nostra società anche. Siete qui al Montereuscello Calcio, vogliamo sapere anche qualcosa di un ragazzo del Montereuscello Calcio? Sì, Francesco Castaldi è con noi per il terzo anno consecutivo, è partito dai giovanissimi nazionali, ora sta facendo l'Under 17, è un punto fisso della nostra difesa, un bravissimo ragazzo e anche un buon giocatore, speriamo che il futuro sia roseo per lui. Quali consigli può dare a un genitore che sogna che un suo figlio possa andare a Bologna in un'altra società professionistica? Il consiglio che mi sento di dare è di stare sempre con i piedi per terra, anche quando si ha in casa qualcosa di buono, però bisogna avere pazienza e vivere serenamente, poi se sono rose fioriranno. Direttore Femiano, lei che segue il calcio a 360 gradi, si parla molto di settore giovanile, ma in realtà qual è il problema del settore giovanile in Campania? Bisogna vedere da che parte si vede, perché Montereuscello è uno dei migliori settori giovanili d'Italia, non della Campania. Ogni anno tre o quattro ragazzi, sempre tra la sedessa del B, vengono sistemati, quindi va fatto proprio un esame per vedere come si lavora. Certamente molti sono avventurieri, però ci lo fa per passione, con professionalità i risultati si vedono. Si è parlato molto del modello tedesco, che sono partiti dalla base, però noi seguendo molto il Montereuscello calcio vediamo che anche qui in Campania c'è qualcuno che sa lavorare sulla base. E' appunto per questo, quello che ho detto prima. L'importante è non essere avventurieri, perché con i ragazzi veramente c'è poco da scherzare, perché poi si illudono e fanno male ai genitori prima e poi ai ragazzi. Montereuscello è una società seria, una società che ogni anno, non è che per amicizie, ma per valore in campo dei ragazzi, riesce a sistemare sei o tre o quattro ragazzi. Quanto è cambiato il calcio e quanto è difficile adesso allenare i genitori? Ha detto bene, più che allenare i ragazzi, allenare i genitori. Purtroppo, purtroppo per fortuna, ogni genitore vorrebbe il figlio in serie A, però non sanno che fanno male mettendo pressione ai ragazzi nel volere a tutti i costi, a tutti i costi proprio, cercare di farli arrivare a certi livelli. I ragazzi vanno lasciati tranquilli, liberi, perché con la tranquillità riescono ad esprimersi molto meglio. Mister Adruno del Bologna, anche l'occasione di parlare dei tuoi allievi che hanno raggiunto l'obiettivo, il primo obiettivo stagionale. Sì, oggi purtroppo il tempo non ci ha permesso di poter far vedere, diciamo, i ragazzi la tecnica, perché con un campo del genere è impraticabile, però i ragazzi si sono impegnati e questa era la cosa fondamentale. Peccato per il tempo, ripeto, però spero che qualche ragazzo si sia fatto valere per quanto riguarda il Bologna Calcio. Come funziona l'organizzazione appunto quando arrivano scouting delle squadre di serie A qui alla Sant'Artem al Monte Roscello? Ci si lavora durante l'anno per poter mettere a disposizione di questi scouting ragazzi che sono pronti per andare a fare i professionisti. Speriamo che quest'anno il Monte Roscello Calcio, come ci ha abituato ogni anno, che poter portare più ragazzi possibili tra i professionisti. Questa scuola calcio ha anche tanti tifosi, quindi si attendono anche i risultati dalla tua squadra che, parliamo un po', sta andando bene. Sì, domenica abbiamo raggiunto la matematica dei play-off, domenica abbiamo l'ultima gara al debut contro la Juve Domizia, però come dico sempre nel settore giovanile i risultati sono altri, è quello di vendere più giocatori e di formarli. Poi se arrivano anche i risultati è una cosa in più.